Vabbè, parliamo di un fantasma, no? Perché di queste cose non se ne parla mai, no? In genere del lavoro che fanno le parrocchie come frontiera sociale del nostro territorio non ne parla mai nessuno. Si parla delle polemiche sulle feste patronali, ma il lavoro ordinario veramente, quello più, che è più velato, ma è che è più stabile, stabilizzato ormai la vita, la frontiera della carità, chiamiamola così. Però quando diciamo questa parola frontiera della carità vogliamo intendere centinaia di situazioni molto diversificate che vanno dalle povertà che stanno aumentando nel territorio dei residenti alle tante povertà che provengono da un'immigrazione inquieta, irregolare, che nessuno probabilmente riesce a controllare attualmente, per cui noi pari, io per esempio adesso sono qui, no? E a questo punto nella comunità, nell'area non c'è nessuno, il Papa dice teniamo le chiese aperte, quindi io devo stare altrimenti devo chiudere le chiese e mi nascondo pure io e risolviamo il problema. Ma come è accaduto a Praia, come è accaduto a Tortore, come è accaduto ad Acquapesa, come è accaduto a Scalea, accade tutti i giorni a Scalea in alcune chiese. Cioè ormai la gente guarda, la chiesa non più come il luogo di culto dove uno va a esprimere la propria fede, ma tante volte come un luogo dove rubare, insomma. Poi ci sono i candelieri, ci sono, si ritiene anche la circolazione di un po' di moneta livello, ognuno che viene dice Don Cono ha la moneta, Don Cono ha bisogno di soldi, Don Cono ha bisogno di soldi, ma questo dalla mattina alla sera e come capita a me, io ritengo capiti anche a tutti gli altri sacerdoti. Quindi c'è una realtà sulla quale forse bisognerebbe riflettere di più, anche perché poi a livello di amministrazioni non sempre c'è questa frontiera di relazione, questo atteggiamento di collaborazione in modo che queste persone, poi vero o falso che sia, possano essere aiutate nei loro bisogni. Perché anche chi immigra, chi cioè si stabilizza a Scalea, anche se in modo irregolare, perché a Scalea tu li trovi, penso anche in altri comuni, un po' dappertutto, insomma bisogna capire pure che fanno, da dove vengono, perché vengono, come si mantengono. Perché il problema non è le chiese, ma è anche gli appartamenti, le case, la sicurezza del cittadino. Perché ci troviamo quasi circondati ormai da situazioni che ci obbligano a stare chiusi, a sigillarci nelle nostre case, cioè come se noi fossimo carcerati.